Salve a tutti ragazzi e benvenuti da insieme in questo nuovo video di Rhyne and Kind Bene, c'era un teletrasporto per arrivare nel mondo terrio e sono entrato e mi ha fatto vedere questo Vediamo cosa c'è Talismano cavi... cavallieri purumorati Insomma c'è un talismano quindi Un talismano Un talismano di ossa di pesce era questo L'altro era di qualcosa Non lo vedo Sono proprio ceccato per non vedere una roba del genere Ah di farmare il WV che sia questo? No non era quello Non lo so Non ho idea Però insomma sembrava carino Voi cosa dite? Adesso ci guarderò e poi vi dirò perché non ho proprio idea Di dove sia magari non si può mettere a lui Non lo so sinceramente Inventarli Guardiamo un po' velocemente Talismani devono essere qui per forza Allora vediamo un po' Collana, spilla, talismani di ossa e pesce Non lo vedo Quindi o non è una cosa Eccolo qui Questo qui è un... Può essere venduto Ok adesso capisco Scusate Se ho messo 30 anni Avete ragione Insomma Allora questa è un'altra fatta Che devo andare di scuote Assolutamente Quindi andiamo via da qua Tanti dovrebbero essere morti Quelli morti E andiamo a riscuotere la taglia Perché è una cosa importante Quindi adesso io vado Con calma Esco E vado verso il posto E ci vediamo fra poco Ed eccoci qua Il tabellone delle taglie Vediamo di scattare Questa che è di livello 9 Questa è di livello 12 Vai Vediamo un po' Qualcina 350 È una ridica rara Oh più 8 di questi Ottimo E poi vediamo questo Oh la pistola Ottimo Oh che bella coscia Mi sei piaciuto tanto Sai Adesso qua Se non ricordo malo Doveva esserci venditore Di informazioni Che vediamo Se c'è Qualche altra quest Che ci può dare Compa informazioni Purtroppo per il momento Non c'è niente Ma mi va bene lo stesso Quindi noi Abbiamo tante Ah che non abbiamo Tanta tanta roba Da fare Vediamo un po' Di vedere Se qui ci dà qualcosa Se berebbe di no Quindi la missione Una è Qua Però non la vedo Sono cieco Evidentemente sì Perché lui mi dice Che è qua Ma io non la vedo A meno che non ci sono Proprio sopra Ma ne dubito Allora mi dice Il Saltatore Del velo Uccidi il saltatore Del velo E dove cazzo Lo uccido Allora qua va bene Qui siamo Alla licenza Prolungata Che la missione Vai a torre Di guardia Esattamente Ponte D'osservazione Magazzino D'artiglieria Va bene E questo invece Rifugio Allora Vallata Solitaria Allora Poi va a vedere Se riesco a trovarlo Non lo vedo Obiettivo Mi dice Va bene Ho capito Però io voglio Ok Qua Ok Non riuscivo a capire Allora Vallata Solitaria Calabarone Via della flotta Non ho idea Di dove sia Questa roba Vediamo un po' Qua C'è qualcosa No Quindi qua Vediamo Se c'è qualcosa E tocca far così Perché se no Non si capisce un cazzo E quindi Blocco da vale Non c'è niente Al pozzo Non c'è niente La grotta Non c'è niente Tocca far così Perché se no Non ci capisco un cazzo I porti di molle Dove sono adesso E non c'è niente Via della flotta Non c'è niente I dedari Non c'è niente Mori del sangue Non c'è niente La panada del barone Non c'è niente E non so dove cazzo andare Ragazzi Porca miseria Mi tocca andare A far forzare La missione principale Che è la logica Del capitano Che ha la maggiore Di fortitude Quindi io devo andare Per La via della flotta Quindi andiamo Per la via della flotta E vediamo un po' Che succede Ah l'unica cosa Perché se no Non saprei cosa fare Come muovermi Insomma Via della flotta Le altre queste Non ho idea Dove sono Dopo devo leggere In modo da capirci Qualcosa Forse devo ancora Arrivare in certi posti Tutto possibile Il faro Tipo non è ancora Accessibile Credo Mi chiedono Queste chiavi Che non so Da dove prendere Comunque andiamo Adesso qua E vediamo cosa fare Certo che Un viaggio rapido L'avrei un po' gradito Magari c'è Non me ne sono accorto Però non sono riuscito A capire Come farlo Ok Adesso qua Siamo Allora Devo andare Verso Verso La locanda Del barone Allora Lì devo andare Alla margione di fortuna Quindi devo andare Verso Il mercato Dei bassi fondi Ok Mercato Dei bassi fondi Dito per dritto Benissimo Così tagliamo Un bel po' Adesso Sono contento Va Poi devo andare Da quello del pescatore A dargli la roba Del pesce E poi Cercare di comprare qualcosa Perché cominciamo A avere diversi soldi Ok Adesso Devo andare Magione di fortuna Penso proprio Che sia lì Quindi andiamo Proprio Ci siamo quasi Quando il barone Mi ha detto Ok E poi L'arena Mano mano Cercheremo di farla Vi devo dire Adesso siamo Un po' giù Siamo quasi Livellati Perché Manca poco Però Insomma Con I pomme Con Maru E con il baffone Ci siamo quasi Insomma Eccoci qua Scusate Siamo arrivati Dal bagione Uno ci dice Ehi Ti stavamo Ti aspettavamo Insomma Sì Mi fortuna Ha detto Che saresti tornata Vai al salotto Dice Ti ricordi La strada vero Su Dall'ascensore Poi dietro Al primo piano Non fai canasare Entriamo Continuiamo E siamo a posto Vai direttamente al salotto Che cazzo Ogni volta che sono qua Mi dice sempre Che devo fare Quello che dice lui E non è giusto Vabbè Andiamo un po' C'è uno schigno Da aprire Infatti C3D4 Darsi che stavolta Se lo faccia aprire Ok Vediamo dov'è Qui c'è qualcuno Non so niente di che Lo schigno è qua Vai Vabbè Che carità Roba buona E quindi Abbiamo preso tutti Ok Possiamo andare Dalla signorina signora Dall'architetta Vediamo cosa si dice Dovrebbe essere di qua Credo Sì Siamo arrivati Perfetto Vediamo Ci sarà una cazzo E noi vedo che hai raccolto Un altro sbandato Fai la collezione Veniamo da Porto Grigio Siamo stati al tempio Abbiamo parlato con gli spiriti Degli antenati E una nuova mietitura È in arrivo Cosa? Non può essere Non di nuovo Abbiamo perso Sara Ne sei assolutamente sicura Non è un attacco casuale C'è altro Gangplank è vivo E in qualche modo è lui responsabile È impossibile Lo sai anche tu L'ho ucciso e ho affondato la sua nave Sono Sono molto impegnata Non ho tempo per storie di fantasmi Sara Hai bruciato la sua nave E preso la sua città Ma lui si è aggrappato alla vita Non ci credo Non posso crederci Puoi e devi Sara Ha rubato le reliquie dal tempio buro Abbandonato a Porto Grigio Com'è successo? Com'è fuggito? Non importa Com'è sopravvissuto Dobbiamo scoprire i suoi piani Non è un mistero Se è vivo Il suo obiettivo è spodestarmi Non importa quali siano le sue intenzioni Nei tuoi confronti Il pericolo per Bilgewater è ben più grande Sara Ho avuto una visione La dea si diverte a dartene parecchie Sta arrivando una mietitura E Gangplank ne è la causa È fuggito nelle isole ombra E noi dobbiamo seguirlo Cosa? Ho trascorso anni a progettare la mia vendetta Ho ripulito la città da tutta la feccia Che si è lasciato alle spalle E ora mi tocca dare la caccia all'assassino di mia madre Per ucciderlo di nuovo Sara Io Fuori Che simpatica E niente non viene con noi Ci speravo un pochino E quindi ci ha vado a fare il culo Che palle Poteva Poteva andare meglio Eh sì Sono sorpreso non sia andata peggio Il suo odio per Gangplank è Travolgente Non posso guarire le ferite del suo cuore Ma speravo che le cicatrici non fossero così fresche Il passato Non è facile lasciarsi le cose alle spalle Quella donna abbatterà chiunque le si pari davanti Sara contribuirà a respingere la nebbia L'ho visto Fermi Oh Se quello che dici è vero Se sta arrivando un'altra mietitura E Gangplank è irresponsabile Devo proteggere Bilgewater Sono convinta che insieme potremo fermarla Siamo su un sentiero tracciato dalla dea E va bene Ma Gangplank è mio Qualsiasi cosa succeda E stavolta rimarrà morto Quindi vieni con noi È giunto il momento di affrontare insieme la fonte della nebbia oscura Le isole ombra Finalmente Ma non ci serve una nave Sei davvero uno straniero Possiamo prendere una delle mie Ma ci servirà una ciurma Una buona idea Rome è quasi annegato E non vuole ripetere l'esperienza Gli uomini non sono un problema Ma ci servono un navigatore e un cannoniere Senza non riusciremo neppure a uscire dalla baia Sembra che tu sappia già a chi chiedere Saranno nascosti nel distretto della torre di guardia Come sempre Non sarà difficile trovarli Spero solo che non abbiano alzato troppo il gomito Un bicchiere o due aiutano nel cammino E ho intenzione di bere per tutto il viaggio Ah beh Faremo un brindisi allora A Gangplank Che possa morire brutalmente come è vissuto Salve signorina Sara Fortune l'autoproclamata regina pirata di Bilgewater Si è guadagnata il titolo affrontando l'ammiraglia di Gangplank Il re dei predoni che uccise i suoi genitori Adesso dopo qualche anno governa Bilgewater con un pugno di ferro Chi la sottovaluta è destinato a trovarsi davanti a un nemico pericoloso E' imprevedibile Con tutta probabilità ha un paio di proiettili nello stomaco Che cosa mi ha aggredita Il ruolo danni e buff Miss Fortune nota subito i dettagli nascosti Quando esamina l'ambiente riesce a vedere cose che gli altri non notano La capitana può usare il doppio colpo La sua abilità dungeon Per colpire a distanza due nemici Infliggono danni E cominciano il combattimento Che danni La prima volta che Miss Fortune prende di mira un nemico Con un colpo via Ah questo lo sappiamo già Molte le abilità di Miss Fortune sono più potenti Se prendono il mira Di mira i nemici con un colpo via Infatti ogni tour di Miss Fortune guadagna carica di andatura Che ne aumenta la rapidità Oh sono tutte cose belle E noi possiamo già mettere di lama nuova Vediamo un po' se è vero Guardare il tutorial Vuoi vedere un tutorial su come usare questo menu? Ma non l'avevamo già visto? Ah si no non l'avevamo visto Qui appaiono i campioni sbloccati Puoi aggiungere e rimuovere un campione Interagendo Con il suo ritratto Se il tuo gruppo è già pieno Dovrai rimuovere un campione attivo Prima di poterne aggiungere un altro Tutti i campioni che siano attivi o meno Ricevano i pie Al completamento di missioni e combattimenti Ogni campione ha un suo set di abilità Combina i vari membri del gruppo Per scoprire sinergie A bolorditi Sbalorditi Siamo dislessi Allora io toglierei il signorino qua Perché per il momento non mi interessa Voglio mettere Allora campione Gruppo al completo Ok ma se io volessi Ah ok già fatto a posto Quindi abbiamo Miss Fortune La curatrice E un caro nostro amico Perfetto Che è livello 15 addirittura Benissimo Ok Quindi se io adesso andassi qua Dovrei avere anche Come lo vedo con l'inventario strano Ah di dire Cambio equipaggiamento No perché capirci Quel punto lì Come ci ritorno Per capire come fare Insomma non ho capito Inventario Va bene Incantamento Diario Diario Bestiario Pesca Non so come ritornare a quel punto Per mandare Modificare la gente È un bel problema Non mi ha spiegato Come fare Devo capirlo Scusate Intanto guardo il tutorial Del bestiario Vediamo Quando incontri di nemici Per la prima volta Viene sbloccato E appare Il bestiario Seleziona il nemico Puoi vedere le informazioni Dettagliate Come la descrizione Delle sue abilità I suoi tesori E i posti dove Qui trovarlo Beh la cosa è buona Le informazioni Secondo se ci serve Da formare qualcosa Possiamo trovarlo Le informazioni Sulle abilità Del nemico Possono essere visualizzate Anche durante il combattimento Con l'abilità Esamina Perfetto Va bene Continuo a cercare Sto coso E niente Non riesco a trovarlo Questo coso Io spendo soltanto Select E però Boh Mi è comparsa All'improvviso Speriamo bene Che dopo me lo dica Intanto guardiamo Le abilità Della nostra amica Che mi ha precchie Da sbloccare Questo lo useremo In modo compulsivo Vediamo un po' Aumenta l'evasione Di 10% per turno Applico una carica Nuova Un colpo e via Un 5 di sovraccarico No 10% mi interessa di più Infine 19 danni Al bersaglio Si ha più Nel 5% Di salute Buono Conferisce una carica Di andatura Per ogni buff Colpo e via Attivo in combattimento Quando applico Un colpo e via Che andatura Mi dà più velocità E questo invece Dà Il figlio di 19 danni Se il bersaglio Ha più del Ma forse meglio questo Poi Un'altra cosa Che useremo tanto Passiva cosa fa Ottiene una carica Di andatura Ogni turno Col 5% di rapidità Vediamo un po' Conferisce ancora Il 2% di critico E il 2% di evasione Critico Lo sappiamo che è meglio Conferisce 4 Di sovraccarico Conferisce L'ulteriore Il 2% di rapidità Io penso che vada così E poi Vediamo un po' Conferisce 5 cariche Di altura Ogni carica Conferisce 7 Di rapidità Un po' di recupero Potrebbe essere Tesso No Il 2% di danni Se il bersaglio E' effetto Non colpo e via Invece Oh Questo qui mi interessa 19 danni Aumento la probabilità Di critico Il 24% Contra un bersaglio Oh Il 24 è tanto Quindi andiamo Stordisce Per un breve periodo Non colpo e via Se il bersaglio E' effetto Non colpo e via Cura Mi sforzo Di 52 Sarebbe buono Però stordisce Per un breve periodo Io ho la possibilità Di colpire più volte Perché lui Si ferma Quando è stordito E quindi Direi che andiamo Su questo E mancano Altri due Che per il momento Mi riservo Di tenere da parte Perché vedremo Cosa fare E per adesso Le rune Di lei Vediamo un po' Cosa fare O metto il potere D'attacco O metto la probabilità Di evasione Potrebbe essere buona Come no Inizia la battaglia Con 30% di probabilità Di critico Con un'azione ottimo Metto la probabilità Di critico Meglio dire Queste due Sono belle E questo fa Genia di Cisofalcari Con 10 colpo Applica ustioni Con il colpo critico Infigione Ha vinto E per il momento Siamo a posto Ok Andiamo avanti Vediamo le quest Vediamo le quest Certo Che sarebbe bello Farle Quelle delle taglie Ma Non so Dove siano Adesso ci guardo Ok Andiamo a fare La missione Della torre di guardia Che è qui vicino Così almeno Vediamo cosa fare Tanti saluti Insomma sì Vediamo se c'è qualcosa qua Non dovrebbe esserci niente Io vado alla torre di guardia E così siamo a posto Sperando che mi faccia passare E col cazzo Mi ha risposto Come faccio A arrivarci Alla torre di guardia Adesso Perché c'è la quest Qua La maggiore di fortune Quindi io devo uscire Dalla maggiore di fortune E poi troverò qua Allora quindi Penso e credo Che a sto punto Vado qua Così a naso Secondo me È di qua La strada giusta Quindi proviamoci E vediamo se è vero Vediamo eh Perché può darsi che mi sbagli Comunque Sapete che È fatica A orientarsi in questo gioco Con la mappa Però piano 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 si fa Si sta Una mossa Fa poco ci salutiamo Non faccio vedere troppo lungo Allora Può darsi E dico Può darsi Che di qua si faccia qualcosa Sì Vediamo un po' Se è vero Oh Questo posto è messo Meglio di alcune zone di big water È distretto all'attore di guardia Il distretto è più alto Rispetto ai bassi fondi Quindi la gente sotto Si sente osservata Giudicata Non aiuta Non aiuta il fatto che Garam abbia piazzato Un telescopio giganto È uno dei tuoi Sì Garam sta più in alto Nella zona nord-ovest Del distretto È il mio navigatore Scusate Ok leggiamo Isabel è in basso Nella zona sud-est Del distretto È una cannoniera Bravissima Con agevoli Ok Qui puoi trovare Tutte le informazioni così Proprio trovare Una faccia amica Ok Speriamo che adesso Mi fai fare qualcosa Però Ok Vediamo un po' C'è tanto Ok Ci sono due quest Una primaria Sicuramente E l'altra Oh Qui abbiamo Da riscattare qualcosa Sicuramente No Ancora no Però ci siamo vicini Sono abbastanza sicuro Che cazzo c'era qui? Ma Ma questo è fuori Vabbè Vediamo un po' Dipende un po' di cose Vediamo un po' Cosa è stata fuori Allora Altra roba Tanta roba Qua c'è Perfetto Benissimo Altri dieci punti Vediamo E infatti Ho detto che c'erano Amici Non me lo sentivo Proprio nelle ossa Ecco E questi Miss Fortune Perfetto Quindi Andiamo A inventario Andiamo qua Toma di Miss Fortune Così ci ha dato Delle rune Rune Che Miss Fortune Bisogna solo una Quindi non ci serve a niente Per il momento Facciamo così Perfetto Andiamo qua Uno di questi giorni Costruiremo un municipio Come si deve Mi ricordi Una grande regina Guerriera Del Freljord Capitana Fortune Oh davvero? Può colpire Una bottiglia Da cento metri? Secondo me Sì Eh Sempre falto lui Ok Direi che siamo a posto Magari ci fermiamo qua Ragazzi Per questo video è tutto Vi invito come solito A lasciare un like A commentare Se il piatto è la serie E farmi sapere appunto Cosa ne hai pensato Per essere assoluta Siva Ciao ciao